Oggi mi trovo a Lecco, che non è brillanza, ma qui si respirano i valori della montagna, che è molto brillanzona. E in giro per la strada della città c'è gente che si arrampica, perché questo è il Rampega Boulder. Bisogna mia sta fermi che mi sceglie. Ha fatto i man, ha fatto i gamp, ha fatto i pè. Bisogna mia vestita, mia vestita. C'è uno spazio piccolissimo. Si supera la prova a bollino. Più ne fai meglio è. Ci sono varie difficoltà in base al colore, però valgono tutti uguali. Ti sei laureato? Ebbene sì, è per festeggiare i miei amici, per molestarmi. Ah, ti hanno costretto. È bellissimo. Ma noi gamp, c'è chi corre. Quindi? Quindi? Venite a Lecco. Qui si arrampicano sulla panchina. Non puoi toccare? No, non puoi toccare. Sen sedere, hai toccato? Dai, dai. Sei severa però. Come sei severa? Te sei qua proprio e si contenta quasi quando tocca. Bravo! Bravo! Tu sei arrivato? Grazie. Bravissima. Quanti anni hai? 12. Ciao! Italiano, no? No, in Swede. In Swede. Do you know Lecco is a mountain city? Yeah, yeah. We were up in the mountains before. Vedi? Very nice. Un bel fanai man, eh? Un bel fanai man. Il bollino me lo dai anche a me, è un bollino. Siete una famiglia che rampega voi? Sì, però oggi sono due. Anni? 9. Ti stanno insegnando che la vita è in salita, è sempre. un bel fanare comunque. La bella abrianza, hippie, hurra! 17.30, ci troviamo davanti al monumento di Garibaldi per la finale. Guardate quanta gente, quanti giovani a Lecco che rampegano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie!